Musica Ok zietto, qual è la prossima missione? Jackie! Vuoi esercitarti nella lotta? Vuoi esercitarmi nella lotta? Molto bene, ho una sfida più difficile per te Jackie, sei pronto? Non ho energia però si, andiamo Dai venite qui Datemi un po' di energia per favore, anzi sai cosa ti dico? Direttamente, prendi la spada Dov'è il prossimo? Ecco qua Di nuovo, zack zack e zack, due in un colpo, perfetto No, dall'altra parte Due in un colpo, no, preso, no, prendio, prendio Ecco fatto Ok, di nuovo Perfetto, mancano pochi secondi No, smetti di pararti Perfetto Eh lo so, grazie, grazie Perfetto, grande zio Dai usciamo armati di katana direttamente fuori, in mezzo alla gente Ah, aiuto C'è chi ci ha armato, qualcuno lo fermi Beh dai, è stato un combattimento interessante Andiamo alla casa d'aste, abbiamo 500 e passa dollari Il salvataggio automatico in teoria è andato Però per sicurezza un altro salvataggio l'ho fatto L'asta sta per cominciare Che cosa c'è oggi? No, grazie Mettiamo all'asta oggi un'insolita rosa di Giada Ok, sì, la rosa di Giada D'accordo Ok, 68 La vecchia Ah, 93 Aspetta, aspetta Al prossimo Ah, troppo Ok, 183 Dovrei essere ancora il migliore Ok, 209 Dai Dovrei essere il migliore per adesso Esatto Che stronzo Aspettiamo ancora un attimo Aspettiamo Aspetta, aspetta Vai, vai, vai Fai l'offerta, fai l'offerta Vai, vai Aspetto gli ultimi secondi io Ovvero Adesso 320 Dai, dovrei essere il migliore 3 2 1 State bene buoni Dai 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 Vecchio di merda Stai fermo No Vecchio di merda Vecchio del cazzo No Ah, ma posso ricominciare quando voglio Allora È una cavolata sto minigioco Se posso rifarlo tutte le volte che voglio Ok, a sto giro davvero aspetto gli ultimi secondi Ovvero Adesso Ecco fatto Purtroppo ho speso più del dovuto Però abbiamo vinto Eh, lo so In realtà non è proprio vero Però Eh, vai Ho vinto questa rosa di Giada In realtà Beh, ha vinto il vecchio prima di me Però Il gioco mi ha permesso di riprovarci Andiamo È incredibile che un gioco della PS2 Vada a più FPS Di Pokémon Violetto Ok, dove dobbiamo andare questa volta? Ehi là, gran capone Salve Capitano Black Siamo venuti ad offrirti il nostro aiuto C'è qualcosa che possiamo fare? Lascia parlare a me, Jade Siamo venuti ad offrirti il nostro aiuto C'è qualcosa che possiamo fare? Beh, qualcosina ci sarebbe Secondo alcune voci non confermate Uno dei talismani mancanti Si troverebbe in Spagna Uno però, eh E dato che non ci risultano Avvistamenti della Mano Nera In quella zona Non c'è ragione Perché tu e Jade Non andiate laggiù A dare un'occhiata Mmh Ti prego, Jackie Accetta Ricordi come sono stata brava In me Beh, effettivamente Ma la Mano Nera Potrebbe farsi viva Dopo il nostro arrivo È un rischio Che sono disposta a correre D'accordo, Jade Purché tu prometta Di restarmi sempre vicina D'accordo, zio Ordinerò che preparino Un treno Per portarti all'hangar Lì troverai un aereo E' pronto a decollare Per la Spagna Sì, signore Mondo Cuglio Capitano Black Adios Questa missione Dovrebbe essere semplice, Jackie Speriamo Considerala come una vacanza Un ringraziamento Per tutto il lavoro Che hai fatto per noi L'aereo è pronto Quando vuoi Sali pure sul treno E mandami una cartolina Giusto per Indicazione Lui dovrebbe essere A San Francisco Giusto? Alexa Quanto ci vuole In aereo Da San Francisco A Spagna Per andare in aereo Da San Francisco A Spagna Impiegherai circa 11 ore e 35 minuto 11 ore di volo Ok, dai Nel 2000 Che cos'era? 5? 6? Forse anche di meno? Sai che palle Il massimo che potevi avere Era il Game Boy Advance Con le batterie Che si scaricavano Piano piano Beh Quell'ombra Ah ecco Stavo dicendo L'ombra lì Di chi è? Che tra l'altro Voi mi avete avvertito Della Spagna Mi avete detto Che è il livello Peggiore Che c'è in questo gioco Andiamo a vedere Qualcuno Qualcuno mi ha detto Che sarà il minigioco Che mi darà Tanti problemi Onestamente Vediamo Non ho avuto Grandi problemi Su molti giochi Che voi mi avete detto Avrei avuto problemi In queste serie Magari Vuoi la mia abilità Attuale Vuoi che magari In realtà Erano più difficili Da bambino Magari Avrò difficoltà Davvero Magari no Ed eccoci qui Alla Spagna Questo posto È fantastico Jackie Non vedo l'ora Di esplorarlo Ebbè Non dimenticare Che siamo qui Per trovare il talismano Jade Ma siamo anche in vacanza Ma che male c'è Se diamo un'occhiata Al mercato del villaggio Già ci siamo Ma perché no D'altronde Vuole che cerchiamo Dappertutto Ebbè Ha proprio ragione Questi giovani D'oggi Riescono Cos'è successo Cos'è Cos'è Posso dire Che accetto Problemi del genere Da un gioco Della ps2 E non da un gioco Della nintendo switch Madonna mia Attivo in sti giorni Ma dopo aver giocato Spada e violetto Qualcosa Eccolo qua Il nostro amicone Qualcosa mi tocca Anche dirlo Dai Jade Vieni Qua Sicuramente Dai Dai è palese What C'è un forziere Per caso Qua dentro Sì C'era un forziere Era abbastanza ovvio Ma porca miseria Anche in Spagna siete Ma Non si può mai Stare tranquilli In questa vita Jade Stai lontana I ninja Delle ombre Sono arrivati Stavo dicendo Ce n'è qualcun altro Ora non ce n'è più nessuno Grazie E abbiamo trovato Alle nacchere Ok vabbè In questa zona Ci può stare Eccomi qua Allora C'è qualcosa Di segreto Da queste parti A parte Il muro Che abbiamo spaccato Poco fa No Sembrerebbe Di no Sembrerebbe Che il grosso Che c'era Jade che intanto Mena il niente Il grosso Che c'era Da fare L'abbiamo Già Fatto Salve Signora I giovani Oggi Non hanno Alcun rispetto Per gli Anziani Presenti Esclusi Naturalmente Ah beh Grazie Perché sembra Quasi Una missione Secondaria Della serie Non correre Giovane Con il talismano Del coniglio E queste guardie Incredibilmente Ispaniche E ci dovremmo Quello è il drago E Falmont Pallesimente Ma questo Ipermetallaro Boia de Bella Signorina Beh Le farei anch'io Signora Se ci fosse qualcuno A vendere qualcosa Volentieri Fammi indovinare Sei tu il minigioco Vero? Yes Signor Vuoi leggere Le istruzioni? Devi far schioccare Le nacchere a tempo Con la musica Sullo schermo Appariranno Dei simboli Rossi Premi ripetutamente Il tasto giusto E i simboli Diventeranno verdi E scompariranno Ah Ma è una cagata È un written game Ciacca 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 Pum Pum Ciacca ciacca Ah Tutte e due? Ok Ok È un attimo Ok È un attimo Complesso Ma in realtà È abbastanza easy No Porca Eh no Ho capito Fallito Non hai il tempo Eh ho capito Ho capito Ho capito Già la difficoltà Ho già capito Eh però qua ti devi mettere proprio In posizione Ti devi mettere in position Se vuoi passare Quindi Quindi Eh ma Quanto è difficile Eh ma non hai il tempo Non ne hai il tempo Ok Ok allora Ho capito Ma l'ho completato Ho vinto Congratulazioni Ma l'altro Ma l'altro Ma l'altro rimaneva più indietro Vabbè abbiamo vinto Quindi Caput Draconis In realtà non c'entrava nulla Ma anche nel film Della banda dei supereroi Non c'entrava assolutamente nulla Belle le bollicine Che ci sono qua sotto Oddio mio Ma Sti bimbi No No Ma se ti dico di no Ma 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 Come corrono i bimbi Vabbè Iniziamo a cercarne due Guarda che ti vedo Eh Ok Ok Uno sta andando di là Uno si è nascosto qui Ok Ok dietro le casse Va bene Va bene Almeno due Li sappiamo già Ciao Ecco di qua Bravo mi hai trovato Ma riesci a trovare gli altri Beh sì Ho visto dove si è nascosto uno Ma 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 Anche noi siamo Dei cacchio di motorini Eccoci qua Ciao bimbo Bimbo Oh mi hai trovato Ma scusate Mi hai trovato Ah Certo certo Vabbè Dopo aver superato Il minigioco della musica Guarda onestamente Uh guarda Chissà dove era Questo bimbo Ciao Vieni qua Non riesco Oh pensavo che qui Non mi avresti trovato Ma Ma non riuscirai a scovare gli altri È la voce di un maschio Su un Una bambina praticamente Palesemente Ok dobbiamo trovarne altri due Uno è lì Vabbè Facile facile Questo Era proprio Visibilissimo Forse i più difficili Tra virgolette Erano proprio Ma cosa ho fatto a trovarli Ma non scoverai gli altri Stanne certo Certo Il più difficile forse Erano proprio i I primi due Oh no Chissà dov'è l'ultimo bimbo Oh 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 I più difficili erano proprio I primi due Ho scelto proprio Perfettamente bene Prima Prendilo Ci hai trovati tutti Incontriamoci nella piazza del villaggio E ti riveleremo il nostro segreto Ma a parte che a me sembrava Ti giuro Mi sembravano sei prima Dio mio Cosa succede? Sembravano sei Quando li visti da lontano Invece no Erano cinque Meno male Uno di meno da cercare Siete stati davvero bravi Nessuno ci aveva mai trovati prima d'ora Nessuno vi aveva mai calcolato prima Tra l'altro il logo che c'hanno sulla maglietta i bimbi Sembra un logo di una casa indie Che potrebbe esistere già adesso Già Ma noi Non siamo come tutti gli altri Esatto No il trucco era seguirli i primi due E gli altri erano facili Comunque sia Un fatto è un fatto Allora ecco il nostro segreto Sotto questa fontana C'è una galleria nascosta La usavamo come base Ma ora scendere là sotto Ci fa troppa paura Vi diremo perché Se giocate ancora con noi Va bene Dai Jackie Possiamo? Va bene va bene Ma non abbiamo più tempo per giocare Lo scoprirò da solo Grazie Oh no Chissà come si è fatto a spostare Grande Dio mio quanto è profondo Porca miseria Ma non è che Allora Ma cosa succede in sto livello che Il modello sta glitchando Bello quello con la spada Sta glitchando tantissimo il modello Vabbè comunque Credo che Non sono sicuro Il cane Ma noi non ce l'abbiamo il cane Aspetta Oh sì No non ce l'abbiamo ancora il cane Quindi lo troviamo adesso D'accordo Io intanto Scusami un attimo Vieni qua Ah ok Eh non ho abbastanza Purtroppo il maiale È utile Ma consuma troppa energia Veramente troppa Cioè non vale la pena Piuttosto combatti O col toro O col coniglio Combatti più veloce O più forte E basta Ah il Il fiore della puntata scorsa Ok Quindi di qua serve il cane Di qua invece Si sale di sopra Immagino Jackie Di qua Dai Jackie Madonna mia La telecamera oggi però Ma dove siamo Ah beh Facile Pensavo saremmo apparsi Oltre il cancello Però siamo degli artisti Ora possiamo passare Giusto? Signore Sono un artista Spiacente signore Solo gli artisti Ah delle nacre Ciacca ciacca Ballerini? Eh sì Sì Siamo le teiere danzate Mai sentiti nominare? Comunque sembrate dei veri artisti Sembrate pure Sì Guarda sicuro Zorro con una maglia blu Sono proprio degli artisti E quello non è sicuramente La base della mano nera Vieni Jade Andiamo al castello Di Valmont Ma Questo morto Qui? Ehi T'ha posto? Cos'è successo? Gruppo di uomini Ha appena fatto irruzione Nel castello A parte dove cacchio È attaccata quella maschera Cioè È tutto nero qua dietro Ed è attaccata praticamente Alla tempia Che era quello rosso Ok Andiamo Anche tu fammi indovinare Sei stato menato Dallo stesso gruppo Vero? Cos'è successo? Un gruppo di uomini Che aspetti Erano Sì 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 Grazie E allora Guarda non te lo chiedo Neanche a te Perché so già Com'erano i tre tizi I sei tizi Bravo Quindi dobbiamo entrare nel castello ora Ah Proprio così Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì